il bosso che stava giù è andato giù e l'hanno rimandato qua ma noi siamo andati è tutto un casino hanno fatto un casino sono ragazzi ma volevano lasciare rava la e me qui bisogna che sposti c'è basta con te hotel abruzzi maestro ma dov'era questa la hai lasciata giù c'è un'opzione al chiuso però non si può fare sarce no allora è però si rimanga tutto di un po per vedere come mette il tempo per cui siccome loro vorrebbero conservare invece l'ordine che nel secondo dobbiamo fare se non c'è più primi ma dovrò fare verso le sette però se invece questo non ho capito se invece si andasse in teatro allora in quel caso li si può divertire questa non ho capito se mai è il contrario dovrebbe essere gente altro avranno già i loro problemi cioè che la gente arriva in ritardo ragazzi vi dico una cosa se mi interrompo decidiamo noi adesso quello che vogliamo fare quello che più si è quello che più si aggrava perché noi siamo noi quelle che decidiamo non loro loro avevano prenotato un certo numero di camere perché c'è una street band una marching band si avevano delle doppie ma questi qui quando stavano andati lì hanno visto che le doppie invece erano matrimoniali non ci vogliono andare giustamente a tutte singole e non ci avevano pregamento non è giusto a questo punto mi andavano questi della street pareti mi andavano qui pericolosi ma io vi da chi vuole stupere no no questo è un altro caso è di soli che io lo sai mi sono comprato una tromba ma va no ho trovato la bessona spoco un pezzo sta certo a me la bessona è un pezzo sta certo a me la bessona è un pezzo sta certo a me la bessona è un pezzo ma la bessona è un pezzo è un pezzo l'ha presa la vista lucida e piaciuta diciamo che c'è tre pistole c'è tre gli ho detto non metti il quarto poi si distrugge la ridotta ragazzi mi sembra che questo è un ritrovo di grandissimi musicisti a parte quello lì con la maglia negra è vero è tutto scuro c'è di nulla questa è la foto che hai fatto no sono loro questi un cartello dove ci stavano scatta la foto scatta la foto e non lo so fare la foto come non la sai fare schiacciami è analogica qui nella valigetta quella marrone situazione c'ho gli spartiti per bosso c'ho un po di storia così un jeans un costume da bagno tante mutande e nemmeno la penna no la penna c'è ma non si vede gli occhiali svariati e passerai il tempo a piegare le camicie perché questo è il cui per tutta la vita piegherai le camicie no le camicie infatti le ho prese questa volta però dopo le piegherai fino a poi chissà già le nostre borse della tromba sono pesantine anche vuote infatti quella di come si dice quel materiale quel materiale ah si in te nylon si in nylon quindi va bene, meno bene e bravo che bravo è una situazione che si devo dire il mio negozio di dire è un buon modo per scegliere tutto bene bene benissimo solo non ci vediamo cazzo però però adesso dal bosso che vado a fare un giorno in Sicilia è molto con me siccome mi fermo 3 giorni ho 3 giorni dopo